I riflettori nazionali si accendono ancora sulla bellezza piacentina, questa volta tocca ad Alessia Franchi, volto di telelibertà ex Miss Piacenza, risultata la più votata sul sito MissCiclismo.it. La bella Alessia ha conquistato così l'accesso alla prefinale del prestigioso titolo, intanto si riscalda con la trasmissione sulla Gran Fondo Colnago dedicata proprio all'universo delle due ruote. L'ho saputo proprio oggi, è una novità per me, avevo già partecipato a MissCiclismo nel 2010 dopo aver fatto la stagione delle rose a Terenzuola, quest'anno ho ripartecipato e ho scoperto proprio oggi di essere una prefinalista, quindi vedremo. Tanto un legame con MissCiclismo che si rafforza perché Alessia Franchi sarà anche la padrona di casa di questa trasmissione sulla Gran Fondo Colnago. Sì, abbiamo due appuntamenti, mercoledì 29 e mercoledì 5 settembre, quindi mi raccomando guardateci con la Gran Fondo Colnago. Ospiti, ci sarà modo proprio di parlare della gara. Sì, ci saranno ex ciclisti, vincitore dell'anno scorso Mirko Bruschi, organizzatori, insomma un po' tutti, quindi sì, sarà sicuramente interessante. But here's my number, so call me maybe